Buongiorno Comunque non è niente di che questo qui, è come quell'altro Non sono difficili, quindi stai tranquilli perché non sono niente di che Andiamo, andiamo, andiamo Sì, questa è la continua, torna giù Lì le siamo boccate all'incesto di fonte santa Andiamo, vai Giovanni Non ti fatti girare la parte di qua, non ti fatti, dalla parte di qua non c'è niente Vai Giovanni Andiamo Andiamo Allora Guarda il cartello Come le fiche dalle, è 7-1 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vieni, vieni veloce, vieni veloce Giù, giù Vieni veloce, vieni veloce Lascia andare Giù Grande Veloce, veloce rezzo Manu, entra veloce, entra veloce Questa è una roba Questa è una roba Questa è una roba Vieni, vieni veloce, vieni veloce Destra Oh, Johnny Dove è Johnny? C'è da fare, una teniscesa c'è da fare Vieni veloce, vieni veloce Vieni veloce, vieni veloce Grazie a tutti. Grazie a tutti.